Bene, buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo video. Noi abbiamo parlato del mercato americano, del mercato europeo, della produzione, delle condizioni dei produttori e manca solo il mercato cinese. Noi siamo abituati a vedere i cinesi come quelli che ci copiano, che alla fin fine non sono molto... Non li abbiamo mai visti di qualità, li abbiamo sempre visti come prodotti copiati di seconda qualità, di terza e non li abbiamo mai considerati un mercato, cioè non abbiamo mai pensato che la Cina, il mercato cinese, possa influenzare le nostre produzioni. Invece, se qualcuno se lo chiedesse, per esempio, oggi la maggior parte delle auto ha una cilindrata inferiore a 1500cc perché il mercato cinese, il sistema fiscale cinese, sovrattassa chi compra un'auto superiore a questa cilindrata e lo sovrattassa in tutto, non solo nell'auto. Quindi, per vendere sul mercato cinese, che è uno dei principali, forse il principale nel mondo, si costruisce, anche i costruttori europei o americani costruiscono auto con motori fino a 1500cc. Questo per far capire che anche il mercato europeo cinese ci influenza, non solo i produttori cinesi, ma anche il loro mercato. Bene, come sempre io mi sono preparato un video per, fra virgolette, non voglio essere polemico, ma per coloro che scoprano che io leggo, sì, io scrivo un testo e poi lo leggo davanti alla telecamera, questo per dare più dati e informazioni in un arco di tempo più ristretto. Detto questo, partiamo con il video. Immaginate un'auto elettrica e cosa vi viene in mente? Per molti di voi probabilmente è una Tesla che viene in mente, forse un Volkswagen, uno Skoda, un Auto, una Fiat e così via. A parte, sono una parte sempre più visibile del passaggio globale dai combustibili fossili, una presenza quasi omnipresente sulle strade, ma sono quelle automobili americane ed europee che ci vengano in mente. Allora saremo disposti a scommettere che l'intera altra dimensione dell'industria dei veicoli elettrici potrebbe essere sfuggita alla nostra attenzione. Anche se loro, non il nostro produttore di veicoli elettrici preferiti, sono le più grandi concessionarie in città. Quella concessionarie sarebbe quella dell'industria dei veicoli elettrici cinesi, un moderno colosso della produzione di design. Produce più veicoli elettrici di qualsiasi altra nazione sulla Terra, messa insieme. Si aggiudica il mercato in aree in cui l'Occidente globale non è nemmeno pronto a competere. È così bravo in quello che fa, che spazza completamente mia dalla mappa case automobilistiche come Ford, Toyota, Volkswagen e altri. Questa è l'industria cinese dei veicoli elettrici, assolutamente selvaggia. Una bestia così gigantesca e così vorace che alla fine potrebbe essere semplicemente inarrestabile. Passiamo molto tempo a fare ricerca su ogni video che pubblichiamo, su questo canale, e ci imbattiamo spesso nel fatto che i media tradizionali tendano a semplificare eccessivamente le cose o potrebbero semplicemente sul volare, sul volare su dettagli cruciali. Prendiamo ad esempio ciò che sta accadendo attualmente in Europa. La preoccupazione dell'Unione Europea per i produttori di automobili cinesi che beneficiano di sussidi governativi che consentono loro di vendere veicoli elettrici a prezzi più bassi. Quindi, imponendo le tasiffe, l'Unione Europea mira a proteggere le sue industrie nazionali dalla concorrenza reale. Tuttavia, il primo ministro spagnolo li sta esaltando a riconsiderare. Mentre la Francia si concentra sul ritiro dell'Unione Europea all'offerta della Cina di colmare il diverso prezzo, la Cina si riferisce che Spagna e Germania sono dalla loro parte perché queste tariffe minacce riguarderebbero il loro futuro collettivo. Per una nazione che ha puntato tutto sulle automobili elettriche relativamente tardi nella storia moderna, l'idea dei veicoli elettrici è stata parte dell'ambizione cinese per un tempo sorprendentemente lungo. Già negli anni Sessanta i pianificatori economici maoisti si stavano muovendo per creare un'industria di biciclette elettriche, un'idea che sarebbe stata ripresa senza successo negli anni Ottanta e poi è decollata all'inizio del ventunesimo secolo. Sebbene fosse principalmente un tentativo di ridurre la congestione, l'inquinamento e i rischi intrinsechi con l'uso massiccio di motociclette a benzina in tutta la Cina, il passaggio alle biciclette elettriche ha preso piede come un incendio. Con oltre 10 milioni di e-bike vendute in Cina solo nel 2005. Al contrario, i dati del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti indicano che i consumatori statunitensi hanno acquistato un milione di e-bike in un anno per la prima volta nel 2022, 17 anni dopo che la Cina ne aveva visto 10 volte di più. All'epoca l'industria cinese delle e-bike si stava già diversificando rapidamente, con centinaia di modelli disponibili per la vendita e nessuna stazione di ricarica oltre a una semplice presa a muro necessaria per caricarli. Nello stesso periodo, le batterie degli scooter cinesi potevano già competere direttamente con gli scooter a benzina senza essere così ingombranti da diventare un inconveniente. O meglio ancora, erano accessibili non solo per i residenti benestanti della città, ma anche per i residenti urbani più poveri e gli abitanti dei villaggi rurali. L'industria cinese dei veicoli elettrici riguarda molto più delle semplici e-bike e la sua spinta verso le nuove auto elettriche che fanno soldi a livello globale è stato un prodotto meno di una riforma sociale internazionale nelle città e più un tentativo di recuperare terreno. La Cina, ovviamente, aveva la sua industria automobilistica nei primi anni 2000, ma mentre poteva produrre un sacco di auto molto rapidamente, aveva perso l'opportunità di diventare competitiva nel mercato automobilistico globale. Le auto cinesi non erano abbastanza note a livello internazionale per aprire semplicemente concessionarie insieme a Nissan o Chevrolet. Non erano di una qualità tale da poter competere con BMW o Mercedes nel mercato di fascia alta e non sarebbero stati in grado di fare semplicemente concorrenza ad altre case automobilistiche internazionali. Le automobili tradizionali a combustione interna non erano semplicemente un'area in cui la Cina avrebbe mai recuperato, ma nel settore dei veicoli elettrici c'erano alcune possibilità molto interessanti che stavano iniziando ad aprirsi. L'inizio tardivo della Cina in quest'area ha avuto in realtà i suoi vantaggi. Gli Stati Uniti e l'Asia orientale, ad esempio, avevano già visto aziende come Crasley, Ford, Toyota, Nissan lavorare straordinariamente per produrre veicoli elettrici degni di consumo, ma la questione era diventata profondamente politica negli Stati Uniti e l'interesse per i veicoli ibridi ed elettrici a basso consumo era andato a rotoli. I prezzi della benzina erano bassi, l'economia era buona e persino le migliori auto elettriche avevano appena un'autonomia inferiore a 100 miglia. Sebbene Europa, Giappone e altri importanti mercati automobilistici fossero ancora interessati ai veicoli elettrici, la domanda dei consumatori era rivolta a veicoli a bassa autonomia e a bassa velocità che si potevano portare in giro per il quartiere o nella città vicina. Ma che di certo non si desiderava portare in un viaggio su strada attraverso il paese. I veicoli non tradizionali più promettenti erano per la maggior parte ibridi come la Toyota Prius e la Honda Insig. Sebbene queste auto fossero ancora, facessero ancora affidamento in parte su motori a combustione interna erano e sono considerate più attraenti e affidabili per i consumatori e una scommessa più sicura per le case automobilistiche che temevano ancora che il mondo semplicemente non fosse pronto per una spinta totale verso i veicoli elettrici. Tutto ciò, preso insieme, offriva alla Cina un'opportunità d'oro. Se la Cina fosse riuscita ad ammettere la sconfitta sui veicoli a combustione interna ed ibridi su cui il mondo era concentrato, allora avrebbero potuto virare verso quella che era in quel momento un punto cieco. Veicoli completamente elettrici che a quel punto erano a pochi anni di distanza. La Cina, con la sua capacità di influenzare e manipolare la domanda di mercato nel suo stesso paese, potrebbe rendere le transazioni interne di veicoli elettrici molto più semplici di quanto, ad esempio, potrebbero fare gli Stati Uniti. E se potesse investire in ricerca e sviluppo in anticipo, sfruttando un'economia in rapida crescita nel processo, allora la Cina non potrebbe avere un veicolo elettrico qualsiasi pronto all'uso, ma uno migliore e più sofisticato di Stati Uniti, Giappone o Europa. Nel processo la Cina potrebbe attingere alla sua indipendenza dal petrolio internazionale e ridurre i suoi sbalorditivi problemi di inquinamento atmosferico. Già nel 2001 la Cina stava incanalando denaro verso le tecnologie necessarie per iniziare a produrre veicoli elettrici in massa, gettando le basi per una potenziale esplosione manifatturiera una volta che fossero arrivati i principali progressi tecnologici. Il processo non è stato né rapido né facile per la Cina, ma tra una serie di guadagni inaspettati per aiutare il processo e i suoi intrinsechi vantaggi nella ricerca e nella produzione, ha comunque fatto rapidi progressi. Nel 2007 un ingegnere automobilistico con un decennio di esperienza con Audi e ulteriore buona fede nel testare personalmente il primo veicolo elettrico di Tesla del 2008 è diventato ministro della scienza e della tecnologia della Cina. A lui è stata attribuita la decisione di dare priorità alla ricerca e alla produzione di veicoli elettrici. Poi la Cina ha iniziato a sovvenzionare pesantemente le aziende di veicoli elettrici per aiutarle a superiare gli anni difficili di sviluppo e di basse vendite per incentivare i potenziali clienti ad acquistare il prodotto che vendevano. Prima che il consumatore cinese fosse pronto ad acquistare veicoli elettrici direttamente, la Cina ha emesso contratti con le sue case automobilistiche per produrre i loro veicoli elettrici da utilizzare nei trasporti pubblici nelle grandi città. Le esenzioni che di solito rendano difficile ottenere una targa sono state revocate per chiunque fosse disposto ad acquistare un veicolo elettrico e le singole città hanno avviato i propri programmi piloti per diffondere la tecnologia nel modo in cui ritenevano avrebbe portato al massimo successo locale. Le singole case automobilistiche, non solo quelle cinese nazionali, erano benvenute a sfruttare tutti quegli stessi programmi di sovvenzioni e pacchetti di assistenza che lo desideravano. Tesla in particolare è stata corteggiata approssimativa aggressivamente e l'approccio ha funzionato. Tesla avrebbe aperto la sua prima gigafattori a Shanghai nel 2019 dopo essere stata costruita in meno di un anno e oggi circa la metà delle auto Tesla vengono prodotte lì. Nel frattempo l'industria cinese è stata costretta a elevarsi fino a superare lo standard qualitativo di Tesla al punto che ora Tesla è costretta a cercare di tenere il passo con i produttori di veicoli cinesi, non il contrario. E dal punto di vista tecnologico i rapidi progressi sono arrivati di pali passo con l'evoluzione del settore in generale. La Cina ha aperto la strada alle batterie agli ioni di litio fosfato, un'opzione più sicura ed economica che un tempo presentava dei vari svantaggi. Si è confrontata con le batterie a litio, nickel, manganese e cobalto su cui la maggior parte del mondo ha fatto affidamento nello sviluppo dei propri veicoli elettrici. Oggi tuttavia le aziende cinesi di batterie sono riuscite a superare quelle barriere tecnologiche. Allo stesso tempo la Cina controlla gran parte delle raffinerie mondiali per componenti di batterie come il coltan, il cobalto, la grafite e composti più complessi. Dal punto di vista manifatturiero la Cina ha puntato tutto sull'automazione delle sue linee di produzione e sulla digitalizzazione del suo processo di progettazione e fabbricazione. Quando si tratta di componenti ad alta tecnologia la Cina è in testa, anche a gruppo, spingendo per funzionalità di guida autonoma, controllo vocale complesso ed altri elementi che creano un'esperienza utente che rivaleggia con il meglio che la produzione automobilistica occidentale ha da offrire. Anche se confrontata con tutte le automobili occidentali, non solo con i veicoli elettrici. Ora, sebbene la visione d'insieme dell'industria dei veicoli elettrici della Cina sia senza dubbio piuttosto impressionante, dobbiamo anche arrivare al dunque e dare un'occhiata più da vicino ai veicoli che stanno dominando l'industria dei veicoli elettrici della Cina, sia alle aziende che l'hanno dominata. In entrambe le aree c'è semplicemente troppo di cui parlare, perché possiamo presentare una panoramica completa di una lunghezza ragionevole, ma piuttosto che presentare un elenco esaustivo, discuteremo prima di tutto dei principali attori. Il più grande produttore di veicoli della Cina di gran lunga è BID, un'organizzazione con un nome che, quando è stata fondata, in realtà non significava nulla, ma è stato recentemente adattato nel nome esteso BID, your dream. Alla fine del 2023 BID era il produttore di veicoli elettrici più venduto al mondo, anche di Tesla, anche di Tesla, scusate. Sono diventati la prima azienda nella storia a produrre 6 milioni di veicoli elettrici individuali e hanno vinto un premio aggiuntivo come terzo produttore di automobili più preziose al mondo. BID è una di quelle aziende che controlla ogni fase del suo processo di produzione, dalla fabbrica di batterie e motori elettrici e componenti che compongano l'interno e l'esterno dei loro veicoli, fino ai chip dei loro computer e persino al litio su cui si basano le loro batterie. Negli ultimi anni BID esplosa in popolarità in Cina e ha introdotto marchi di lusso, fuoristrada e altri marchi specializzati per abbinarli. I loro veicoli hanno trovato acquirenti anche in Europa, diventando direttamente competitivi con i veicoli elettrici e a combustione tradizionale europei e sono popolari in Australia e Brasile. BID offre una gamba di automobili molto vendute, ma le più popolari con un margine significativo sono le linee di veicoli elettrici Keen Plus e Song Plus. Entrambi sono adattamenti di automobili a combustione interna esistenti, ma ciò non ha impedito alle loro versioni elettriche di ottenere una grande trazione. I nuovi veicoli Keen Plus vantano un'autonomia di 600 km. Poi c'è la Dolphin, un'auto di due volumi che è diventata quasi omnipresente in Cina, come auto subcompatta per famiglie. Dotata di moderni sistemi di infotrastenimento interni, la Dolphin raggiunge un'autonomia di 340 km ed è stata recentemente introdotta in Brasile, Oceania, Europa, Giappone, Sudafrica e nel mercato cattivo del sud-est asiatico. Il SUV Atto 3 è realizzato con uno stile interno pensato per assomigliare all'interno di una palestra e ha un'autonomia di 430 km. Nei modelli standard, forse la cosa più impressionante è che sotto la bandiera di BID la sua super coupé EV ha alte prestazioni, la Yang Wang 1.9, presentata per la prima volta nell'aprile del 2023. Sviluppata dal famoso progettore capo della Lamborghini e Alfa Romeo Wolfgang Egger, la 1.9 è entrata in piena produzione solo nell'agosto del 2024. Ma le sue specifiche prestazionali sono davvero impressionanti. Utilizzando quattro motori elettrici con una potenza combinata di 1300 cavalli, la 1.9 passa da 0 a 60 km l'ora in due secondi ed è stata tracciata a 309 km orari di velocità. È dotata di un sistema di progettazione BID proprietario per ridistribuire la coppia tra le sue ruote anche nel caso che un pneumatico fuori durante la guida a alta velocità. Con i potenziali rimedi del sistema che includono anche una breve funzione di salto verticale, su cui tutte e quattro le ruote dell'auto prima si restringano, quindi si lanciano verso l'auto, in modo che l'auto e il suo conducente prendano momentaneamente il volo. Poi c'è la SAIC Motor Corporation, precedentemente Shanghai Automotive Industry Corporation, la più grande delle quattro grandi case automobilistiche statali cinese. SAIC è al terzo posto nel mondo per le aziende di veicoli elettrici e ibridi combinati e al secondo posto al mondo per i produttori di veicoli completamente elettrici. Nei suoi marchi di proprietà diretta e nelle sue numerose joint ventures, tra cui alcune con il Volkswagen General Motors SAIC ha un grande successo in vari modelli di auto e sta facendo intensi e continui tentativi di entrare nei mercati europei. SAIC lancia nuovi modelli di auto a ritmi sbalorditivi, spesso rappresentando una percentuale insolitamente alta di tutti i nuovi modelli di veicoli cinesi lanciati in un dato anno. Tra le auto più impressionanti di SAIC c'è la L7, prodotta tramite la sussidiaria IM Motor. Oltre a un'autonomia elettrica di 615 km, la L7 usa un sistema di guida intelligente per guidare in modo completamente autonomo sulle autostrade, in modo semi-autonomo sulle strade cittadine ed entrambi richiamano a se stesse un comando di un conducente e un parcheggio. Introdurre anche la ricarica wireless, la ricarica per induzione, un cambiamento fondamentale rispetto ai modelli a ricarica cablata, su cui si basa la maggior parte dei veicoli in tutto il mondo. Accanto alla L7 c'è la LS6, un SUV crossover con un'autonomia di 700 km e la capacità di passare da 0 a 60 km l'ora in 3,5 secondi. Sotto la sussidiaria britannica MG Motor SAIC offre una MG4 Electric, un'auto che può passare da una batteria scarica ad essere in grado di guidare per 200 km dopo un tempo di ricarica di soli 5 minuti. dalla stessa sussidiaria il SUV crossover ZS ha aperto la strada in Australia come veicolo elettrico più economico mai venduto nel paese ed ora il modello più venduto di SAIC in tutto il mondo. Le sussidiarie SAIC producano anche un Riesing Auto F7, un'auto di lusso con un'autonomia di oltre 660 km e la Riesing Auto R7, una versione SUV crossover con un'autonomia comparabile. Il loro minivan elettrico, il MAX MAPA 9, vanta un'autonomia di 650 km. E ben oltre i grandi marchi c'è anche la questione delle prestazioni pure, dove all'avanguardia del mercato dei veicoli elettrici i modelli più veloci dalla Cina sono in grado di eguagliare le prestazioni delle migliori auto sportive internazionali. Abbiamo menzionato la Yang Wang 1 9 che raggiunge i 309 km orari ma non è nemmeno l'EV più veloce con la Cina che la Cina ha da offrire. Quello spetta alla EP9 con una velocità massima di 314 km orari con un telaio in fibra di carbonio e un'accelerazione da 0 a 100 in 2,7 secondi. Oltre a un avanzato sistema di torque di trazione di forza Victoring che regola la potenza in uscita ruota per ruota. Xiaomi SUV 7 Max prodotto dal secondo produttore di smartphone al mondo è in grado di raggiungere velocità massima di 265 km orari, oltre a un'autonomia di quasi 800 km orari. L'hard Hyper SSR può essere limitato a una velocità massima di soli 200 km orari ma a 1200 cavalli sotto il cofano, più porte a forbice e un'autonomia dichiarata di 505 km. Anche questa sottostima è la vera autonomia dell'industria cinese dei veicoli elettrici. Infatti, una volta superati i vincoli per passaggi familiari, il grado in cui la Cina ha raggiunto il predominio internazionale diventa sempre più evidente. La Cina è responsabile della stragrande maggioranza degli autobus elettrici in tutto il mondo. Con la sola società BID ha già consegnato oltre 100.000 autobus elettrici in tutto il mondo, inclusi i suoi autobus a due piani B12 e i suoi modelli articolati B18 e K11. La Geely Company produce sia autobus urbani che autobus turistici e lo stesso vale per la SAIC che produce diversi tipi di autobus elettrici e filobus per l'uso in tutta la Cina. Tutto sommato, i produttori cinesi sono responsabili di oltre il 95% dello stock globale di autobus elettrici e questa cifra non sembra nemmeno destinata a cambiare tanto presto. Le aziende cinesi producono spazzatrici stradali completamente elettriche, camion della spazzatura, camion da miniera, camion con calzoni leggeri e medi, furgoni e persino taxi neri in stile londinese. Nel frattempo l'industria cinese della eBay è ancora fiorente con una stima di 34 milioni di unità vendute nel 2023 e si prevede che un tale numero aumenterà solo nei prossimi anni. All'interno del paese i marchi automobilistici stranieri sono in gran parte irrilevanti, a parte il marchio Tesla e alcuni modelli tedeschi, mentre le case automobilistiche nazionali, in particolare i produttori di veicoli elettrici, ora dominano completamente il mercato cinese. Negli anni 20 l'industria cinese dei veicoli elettrici è di gran lunga la più grande al mondo. Due veicoli elettrici su tre nel mondo sono costruiti da aziende cinese, mentre oltre tre quarti delle batterie per veicoli elettrici escano dalle fabbriche cinesi. Nell'arco di solo i quattro anni, dal 2020 al 2024, le esportazioni di veicoli elettrici dalla Cina sono aumentate dell'800% e oggi ogni tre nuovi modelli di auto che aziende americane, giapponesi o europee sfornano, la Cina ne lancia quattro. Per quanto riguarda la ricerca, il 65% delle pubblicazioni di ricerca sulle batterie elettriche proviene dalla Cina, contro meno del 12% dagli Stati Uniti. Mentre per quanto riguarda la produzione, il 2024 vedrà probabilmente oltre 10 milioni di veicoli elettrici uscire dalle linee di montaggio cinesi, con un aumento di 1,1 milioni di unità rispetto al 2023. Per la Cina l'industria non è niente meno che spettacolare, un leader globale in ogni possibile parametro e sulla buona strada per cambiare sempre l'industria automobilistica mondiale. Tuttavia è ancora fondamentale capire che l'industria dei veicoli elettrici cinese, nonostante la sua tradizionaria potenza, è ancora in fase di sviluppo. Le case automobilistiche cinesi stanno ancora lavorando straordinariamente per riempire qualsiasi nicchia riescano a trovare e per spingere i parametri delle prestazioni non solo oltre i loro concorrenti ma a un livello in cui il loro prodotto diventerebbe possibile da ignorare sulle scene globali. In alcune aree i veicoli elettrici cinesi non sono ancora particolarmente vicini a rivareggiare con i veicoli a combustione interna. Solo un esempio, la maggior parte dei pick up elettrici del paese ha una capacità di trasporto che può essere solo descritta come ridicola. Proprio come ogni tentativo di guardare all'industria cinese dei veicoli elettrici dieci anni fa e definirla un prodotto finito sarebbe stato fuorviante, lo stesso vale ora. Per certi versi l'approccio sembra quasi sempre semplice come buttare tutto contro il muro e vedere che cosa rimane attaccato. Ma l'approccio della Cina è scorretto, è sorretto dalla semplice matematica sull'innovazione e su larga scala. Fa in modo che un numero sufficiente di aziende lavori su una gamma sufficientemente ampia di obiettivi, con un supporto finanziario e industriale sufficientemente consistente e i progressi arriveranno prima piuttosto che dopo. Sebbene nel 2024 un calo dei tassi di produzione e venta di veicoli elettrici in Cina non sia certamente rilevante, i notevoli tentativi di inquadrare il calo come un segnale di avvertimento per la fine del vantaggio cinese nei veicoli elettrici sono semplicemente prematuri se non assurdi. L'industria cinese dei veicoli elettrici semplicemente non è alla merce del consumatore, almeno nella misura in cui potrebbe esserlo quella del resto del mondo. Sebbene la Cina si stia dirigendo verso quello che sembra essere un periodo economicamente magro, l'industria dei veicoli elettrici rimane una priorità assoluta e quasi certamente continuerà a ricevere il sostegno statale che ciò comporta. In senso pratico l'incredibile crescita dell'industria cinese dei veicoli elettrici ha rappresentato un vero banco di prova per gli Stati Uniti, Giappone e Europa. Sebbene i veicoli elettrici di questi continenti possano certamente competere con la Cina per ora, ci sono segnali di avvertimento ovunque all'orizzonte che indicano che l'equilibrio potrebbe cambiare. Ad esempio le nazioni concorrenti della Cina sono rimaste sostanzialmente indietro quando si tratta di categorie come autobus elettrici, trasporti pubblici, furgoni elettrici e veicoli utilizzari. I grandi camion elettrici dove macchine come il produttore di camion tedesco Daimler stanno appena arrivando sul mercato. Nel frattempo l'auto elettrica media statunitense vanta un solo un'autonomia inferiore ai 400 km, mentre la manciata più promettente di veicoli elettrici a lungo raggio sta solo raggiungendo la parità del prezzo con i veicoli a combustione interna di quest'anno. Nel frattempo i veicoli a lungo raggio della Cina vengono prodotti in una gamma molto più ampia di marchi e produttori in volume più elevati e a prezzi complessivamente più bassi. E l'azienda che molti negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone vedano come la principale controparte occidentale dei veicoli elettrici cinesi, la Tesla è molto meno fedele a quei mercati in quanto i suoi consumatori avrebbero di quanto i suoi consumatori avrebbero potuto sperare. Proprio quest'estate le auto Tesla sono diventate il primo marchio di veicoli elettrici di proprietà straniera ad essere inseriti nei cataloghi di acquisto per i funzionari del governo cinese. E non è un caso. Oggi Tesla è più dipendente dalla Cina di quanto la Cina non lo sia da Tesla. E la stretta relazione del fondatore di Tesla Elon Musk con il leader cinese Xi Jinping Li è ulteriore prova positiva con l'evolversi della situazione. I leader di ogni nazione con la propria violente industria automobilistica hanno dovuto affrontare pressioni per cercare di fermare l'ascesa dei veicoli elettrici cinesi. In molti luoghi e tanti tali pressioni hanno portato ad azioni pubbliche. Negli Stati Uniti il presidente John Biden ha dovuto affrontare pressioni per poter vietare le esportazioni di auto elettriche di fabbricazioni cinese e nel 2024 l'amministrazione presidenziale americana ha avviato le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale dei veicoli elettrici cinesi. I leader americani sono tutti preoccupati dei rischi posti dai dati che i veicoli elettrici cinesi raccoglierebbero in massa dai loro conducenti e passeggeri e dal loro utilizzo di telecamere e sensori connessi a internet per registrare citando la Casa Bianca informazioni dettagliate sulle infrastrutture statunitensi. Tra le principali preoccupazioni figura anche il potenziale di queste auto pilotate disattivate da remoto, forse anche dalla Cina e la loro vicinanza alle infrastrutture critiche statunitensi. Per ora gli Stati Uniti hanno imposto tariffe severi sui veicoli elettrici cinesi facendo aumentare i costi per i produttori al punto che non ha senso acquistarli. Ma la Cina ha lavorato per aggirare queste normative aprendo fabbriche in Messico in modo che i veicoli elettrici prodotti in Messico poi spediti direttamente negli Stati Uniti non siano soggetti alle stesse tassazioni. Senza le barriere di prezzo i veicoli elettrici cinesi contano circa la metà di quelli americani, costano circa la metà di quelli americani, il che significa che la Cina potrebbe indebolire drasticamente l'industria dei veicoli elettrici statunitensi. L'Alliance for American Manufacturing ha avvertito che un simile risultato sarebbe stato un evento di livello di estinzione per l'industria automobilistica statunitense. Nel frattempo l'Unione Europea ha aumentato i propri dazi su veicoli elettrici cinesi. Nel luglio 2024 aumentando i costi imposti ai singoli produttori di automobili fino a raggiungere una quota compresa tra il 17,5% e quasi il 38%. Oltre a un dazio del 10% imposto su tutti i veicoli importati dalla Cina. Presi tutti insieme questi controlli sui prezzi possano rallentare la marea dell'industria cinese dei veicoli elettrici ma non possano fermarla. L'aumento dei dazi non fa che incentivare le case automobilistiche cinesi. E persino lo stesso PCC ad abbassare ulteriormente i prezzi dei loro veicoli. Come alcune auto come la Sigul Hatbeck prodotta da Bid, già meno costose di veicoli statunitensi comparabili. Nonostante i dazi, come sta facendo la Cina e Messico, un divieto di importazione di queste auto dalla Cina incentiva semplicemente la Cina a desternalizzare la produzione in modo che le auto vengano importate da altre nazioni. Le automobili stesse potrebbero essere vietate ma questo a sua volta rischia di trasformarsi in un'altra guerra commerciale con la Cina dove il resto del mondo dovrebbe soffrire le stesse difficoltà della Cina se non maggiori. E con la Cina che continua a produrre i suoi veicoli e li fa uscire dalle fabbriche a ritmi sorprendenti, non è chiaro se lo slancio che i veicoli elettrici cinesi hanno già potuto possono ancora essere fermati. Tutti gli indicatori indicano che questa invasione di mercato cinese è inarrestabile e non possiamo sottrarci. Le paure e i timori sono molti ma non possiamo non possiamo più fare un passo indietro, siamo già troppo in là. Quindi questo mercato è cinese e il mercato cinese è anch'esso cinese. Per cui signori miei c'è anche questa valutazione da fare quando parliamo di auto elettriche. Non solo le mere valutazioni di gusto, mi piace, non mi piace, tecnologiche che poi sono molto spesso sono sbagliate. Io a volte semplicisticamente dico che alcuni traghetti non accettano le auto elettriche. Il problema dov'è? Non è che le auto elettriche siano più incendiabili delle auto a benzina, il rischio è uguale. Il problema è assicurativo nel senso che noi abbiamo avuto un problema, noi le assicurazioni, nella diffusione delle auto elettriche perché l'involucro delle batterie urtando un marciapiede, una pietra, un tombino si danneggiava e questo poteva portare al passaggio di acqua al suo interno e quindi rischi di infiammabilità. Le assicurazioni che si sono trovate a ripagare batterie che vanno dai 30 ai 50 mila euro addirittura hanno esteso questo discorso anche ai traghetti. Non tutte le assicurazioni ma la maggior parte. Perché? Perché dicano giustamente te traghetto mio assicurato devi pagare i danni a tutti se si incendia il traghetto. Se si incendia il traghetto perché un autista di una macchina elettrica ha danneggiato la batteria, magari non lo sa, la mette sul traghetto e là succede l'incendio. Quindi questo problema è puramente assicurativo, è un problema assicurativo da risolvere. La ricarica induzione, la ricarica wireless che è tre volte più veloce della ricarica via cavo sarà il passo avanti, molto avanti delle auto elettriche. La realizzazione però di tutto questo vorrà un sacco di tempo ancora. Quindi dobbiamo da una parte aspettare a giudicare questo settore ma dall'altra dobbiamo anche pensare che questo passaggio all'elettrico sarà anche cedere una parte della nostra economia ai cinesi. Ricordiamocelo perché anche questo è importante. Bene signori, sperando di avervi dato un altro spunto di riflessione, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.